Da un certo punto di vista molti oggetti sono proprio la realizzazione di quasi di prolungamenti del nostro corpo che consentano di fare cose. E addirittura, questo è molto interessante, è che gli oggetti molto spesso, continuamente sempre più, stanno diventando quasi soggetti. Cosa vuol dire quasi soggetti? Vuol dire che stanno acquisendo delle caratteristiche di risposta e diventeranno sempre più manifestazioni dirette del corpo, proprio veramente gesti. Pensate, dov'è che io vedo la strada? Sono i giochi, i cosiddetti giochi elettronici. Là tu vedi che ci sono questi oggetti in cui l'oggetto appunto, in cui ci sono queste, tu produci delle gestualità che cambiano, che agiscono direttamente sul mondo. Ci possiamo immaginare, adesso io faccio un attimo il visionario, scherziamo un po', ma... Il mondo potrebbe essere fatto di oggetti che non ci sono, di oggetti strumentali che non ci sono e di opere d'arte. Che vedo l'Uni e esprit! Grazie a tutti